Il punto più basso del Bari ed era difficile battere tutti i record negativi nella storia centenaria dei biancorossi ma la sconfitta di Torre del Greco ha fatto toccare il fondo anche dal punto di vista meramente statistico oltre che tecnico e tattico. La nona sconfitta stagionale subita in terra campana è la più pesante per il passivo maturato nei 90 minuti di gioco con le reti di D'Ignazio, Loreto e Alma che hanno firmato il successo rotondo della Turris. Per trovare un secco 3-0 in Serie C bisogna riavvolgere il nastro sino a febbraio 1966 quando i biancorossi vennero sconfitti dalla casertana sempre una campana. Al termine della stagione 1965-1966 il Bari fu sconfitto dieci volte e finì al quarto posto del girone. Insomma sembra una storia che si ripete anche quest'anno il destino è lo stesso quarto posto e una serie di sconfitte ben nove che stanno creando un clima pesante in città e tra i tifosi. Provare a rimettere insieme i cocci sembra un'impresa quasi impossibile ma la sfida contro il Biceglie è l'occasionissima per ritrovarsi. E poi giocarsi tutto e playoff anche se ad oggi sembra quasi utopico pensare a una scalata del Bari sino alla finale.